Il parquet da una parte, la buca paracadute dall'altra, sono gli elementi che contraddistinguono le due palestre in costruzione al polo scolastico di San Paolo perché identificano l'uso che ne verrà fatto. I lavori proseguono spediti e già ora visitandole si ha la percezione di come saranno una volta finite. Oggi il sindaco Matteo Biffoni e il presidente della provincia Francesco Pugelli hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dei due enti. Quello del polo sportivo è uno dei grandi progetti su cui province e comune di Prata hanno puntato per dare risposte sul fronte delle edilizie scolastiche al mondo dello sport. I lavori del valore di oltre 5 milioni di euro derivanti da fondi ministeriali, provinciali e comunali porteranno alla realizzazione di un complesso sportivo multidisciplinare dotato di un grande impianto sportivo e altri spazi ad uso ricreativo a disposizione della popolazione studentesca e non solo. In orario extrascolastico, infatti, chi pratica a livello agonistico sport come la palla a volo, la palla a canestro, la palla a mano, la ginastica ritmica, potrà contare su un nuovo spazio dedicato, composto da due ampie palestre, una di proprietà della provincia, l'altra del comune, che si aggiungeranno alla piscina già esistente. In orario scolastico le palestre saranno invece destinate alle attività degli studenti delle sei scuole che compongono il polo. Si vede il traguardo della fine dei lavori di questo bellissimo impianto sportivo. Era l'agosto 2020 quando abbiamo aperto il cantiere, nel mezzo c'è stata la pandemia, c'è stata la crisi energetica, il problema di reperire materiali, eppure in soli tre anni, perché nell'agosto del 2023 saranno tre anni, abbiamo potuto realizzare questo impianto sportivo che sarà a disposizione delle scuole, del polo e della città a partire dal prossimo anno scolastico. La palestra più grande di proprietà della provincia potrà ospitare la palla a canestro, la palla a volo, la palla a mano e il calcio a cinque, e sarà corredata da una tribuna in grado di contenere fino a 500 spettatori. L'altra palestra di proprietà del comune di Prato ospiterà invece lo spazio per la ginnastica artistica e ritmica. C'era la necessità di un piccolo palazzetto dello sport da un lato e dall'altro lato risolvere il problema a storio, che purtroppo all'Etruria la proprietà non ha saputo risolvere. Noi volevamo prendere lo spazio e non c'è stato possibile, allora abbiamo costruito una palestra nuova che ovviamente avrà servizio scolastico di giorno, ma poi sarà, ci dicono, una delle migliori in Italia a servizio della ginnastica ritmica artistica, su cui Prato ovviamente ha una storia importante. Quindi qua appunto un palazzetto dello sport da circa 500 posti.